Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la categoria Giovanissimi che nel lunedì di Pasquetta ha celebrato una vera e propria festa del ciclismo nel primo trofeo Avis Vero la Vecchia. Il tutto reso ancora più magico e speciale dal Fun Village allestito da Pianeta Giovani per rendere ancora più divertenti queste belle domeniche da passare insieme. Ma passiamo alla gara perché sulle strade del circuito di Vero la Vecchia sono già impegnati i piccoli atleti della categoria G1 che stanno cercando di portare al termine al meglio la loro prova. Il pubblico è pronto ad accogliere i propri beniamini e sotto lo striscione d'arrivo passa in prima posizione Monister Angelo della Spring Eddie che precede Coloberti Mirko del Limbal Plassoncino con dei notti Simone della Ronco, Faustini Mauro della Camignone e Ferrari Martina della Guidizzolo che vince anche la classifica femminile davanti a Comincini Nicole della Ronco e alla sua compagna di squadra per Anni Maria Giulia.